Da oggi la bonifica delle aree di risulta di Pescara durerà all'incirca 100 giorni e il sindaco Masci parla di una svolta nella vita della città. Si tratta di un cantiere, dice, atteso da oltre 36 anni, da quando è passato per l'ultima volta il treno, nel gennaio 1988, per due mesi fino al 31 maggio, nella zona nord a ridosso di via Michelangelo e di una parte di via Bassani-Pavone, non sarà possibile parcheggiare. È in vigore infatti il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata nell'area che abbraccia circa 80 posti auto ed è interdetto il traffico veicolare e pedonale, a eccezione del personale dei mezzi a supporto dell'intervento. Finalmente cominciamo il percorso che porterà alla realizzazione del grande parco di 65 mila metri quadrati, dei parcheggi lato nord e lato sud e poi della sede della regione Abruzzo che dovrà contenere anche un grande auditorium e una biblioteca regionale per fare in modo che tutta quest'area possa vivere ogni giorno dell'anno perché questo è l'obiettivo che noi vogliamo cogliere. Tanto verde e tanta bellezza perché qui gli edifici che saranno realizzati, sia i parcheggi che la sede della regione Abruzzo, saranno di grandissima qualità, di sostenibilità ambientale massima. Entro questi 100 giorni e prosegue il sindaco partirà il bando per il parco e per i parcheggi lato sud, mentre dopo la bonifica tua realizzerà il terminal proprio qui in zona nord. Nel frattempo Masce risponde a Costantini, candidato del centro-sinistra, sui rifiuti e sulla raccolta porta a porta in centro. Non c'è stato nessun dietro a fronte sul porta a porta. Noi abbiamo rinviato soltanto il porta a porta in centro perché in questo momento in centro ci sono i lavori, quindi già c'è un certo disagio che noi cerchiamo di contenere. Nel frattempo in questa città il porta a porta è cresciuto tantissimo ed è cresciuto del 30% negli ultimi anni perché oggi siamo passati da 65.000 utenti serviti dal porta a porta a quasi 90.000 utenti. Tornando agli aerei di risulta, Masci spera che entro 5 anni l'imponente opera possa essere conclusa.